La battaglia legale sulle eccezioni presentate dagli avvocati di Michael Alessandrini non è finita. La Corte d'Assise di Pesaro ha rigettato in toto le contestazioni presentate dagli avvocati Carlo Taormina e Salvatore Asole nella prima udienza carico del trentenne pesarese. Presente in aula, reo confesso dell'omicidio di Pierpaolo Pansieri, 27enne ucciso con 23 coltellate, il 20 febbraio 2023 nella sua abitazione di Via Gavelli. I legali sono pronti a dare battaglia sia sull'eccezione legata alla premeditazione come aggravante dell'omicidio di Pansieri sia sull'integrazione della perizia psichiatrica per verificare la capacità processuale dell'imputato. Abbiamo perso su tutta la linea, quindi non c'è stata la questione dell'estradizione fatta soltanto con alcune contestazioni e non con altre. La rivedremo poi successivamente perché l'ordinanza per quello che ci riguarda non è fondata. Per quello che riguarda la questione delle condizioni di salute, nessuno ha voluto accertare che cosa è successo dal gennaio a oggi e prendiamo atto. Intanto raccoglieremo noi il materiale e lo produrremo. Il ragazzo è in condizioni assolutamente devastanti dal punto di vista psichiatrico. La documentazione del carcere, sia quella infermieristica, sia quella medica, lo dimostra, ma la corte ha ritenuto di non acquisire gli atti. E li porteremo noi. Michael Alessandrini è rimasto in aula a meno di un'ora, ha letto un passaggio della Bibbia, è intervenuto in due occasioni per dire di non comprendere il motivo per il quale fosse lì. Poi ha chiesto di andarsene ed è stato riportato in carcere. Il collegio di periti ha decretato la semi-infermità mentale di Alessandrini. Per gli avvocati di parte civile, le manifestazioni patologiche del trentenne sono orientate ad una finalità utilitaristica per la sua posizione processuale. È un provvedimento perfetto, la situazione poteva essere delicata, ma era evidente. È evidente a mio avviso che Alessandrini esprime i sintomi della sua patologia in modo orientato, finalisticamente utile, tutte le volte alla sua posizione processuale. E per me chiaramente sono comportamenti che sono preordinati a ottenere risultati utili, sempre, a finalità che sono sempre coerenti con la sua posizione processuale. Le manifestazioni patologiche non sono disorganizzate, ma sono proprio organizzate per la sua difesa. Quindi a mio avviso finge molto di più di quanto in realtà non sia reale la sua patologia. Comunque andiamo avanti.